Ciao a tutti, sono Tatiana e oggi vi parlerò di gruppi crossover al femminile. Definiamo innanzitutto cos'è un gruppo crossover. Un gruppo crossover sono artisti che uniscono generi diversi in un unico progetto musicale. Al mondo esistono diversi gruppi al maschile molto conosciuti, come ad esempio i tre tenori o i tre telonini del volo. Oggi vi parlerò di tre gruppi al femminile, due italiani e un americano. Il primo fra tutti è il trio Appassionante, composto da tre soprano italiane. Il gruppo si forma nel 2002 a Roma ed è considerato il primo gruppo femminile crossover opera pop al mondo. Le ragazze sono belle, originali e talentuose e uniscono musica lirica e leggera, rinnovando così il modo di fare musica. Nel corso degli anni hanno pubblicato diversi dischi, partecipato a diverse trasmissioni televisive e sono anche molto attive in quello che è la lotta alla violenza sulle donne. Il secondo gruppo di cui parlo sono le Incanto Quartet, un quartetto di soprano italiane. Il gruppo si forma nel 2010 con il nome di Divas per poi diventare, solamente nel 2013, Incanto. Inizialmente il loro repertore è più classico, più sopranile, per evolversi piano piano verso una dimensione più personale e più pop. Oltre a produrre brani originali, loro reinterpretano e riarrangiano in chiave nuova e in linea con la loro vocalità numerosi brani pop rock, per permettere così al pubblico di riconoscere questi brani e apprezzare le trasformazioni effettuate dal gruppo. Le ragazze si esibiscono in Italia ma anche all'estero, dove sono molto apprezzate. L'ultimo gruppo di cui vi parlo sono le Trig Races. Il nome deriva dalla mitologia greca delle tre grazie che rappresentavano bellezza, saggezza e fascino. Il gruppo si forma nel 2006 e unisce diverse estrazioni vocali, poiché le ragazze vengono da tre mondi diversi, quello del teatro di Brodoi, quello dell'opera lirica e quello della musica pop. Il gruppo riesce così, grazie alle loro differenze, a creare una miscela vocale molto armonica, senza perdere però le loro caratteristiche individuali. Le Trig Races si ispirano al gruppo maschile Il Divo, che trasforma le canzoni pop inglesi in formato operistico, cantando non solo in inglese ma anche in francese, spagnolo e italiano, così come fanno anche le ragazze del gruppo del Trig Races. Spero che queste informazioni vi siano tornate utili o vi abbiano incuriosito ad approvire di più il mondo dei crossover artist. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo alla prossima!